No, forse no, perché adesso vi dovete riabbracciare. Sì, sì, sì. Quando tutte ne si è andate, lo scout ed io abbiamo rimesso la lady a posta e quello è l'ultimo posto dove l'ho vista. Un momento. Sì, tu, tu. Qua la lascia perdere! Ma tutto questo due ore fa? Sì, appunto, è tardi, Bert. Noi dobbiamo trovare il modo di uscire da qui, altrimenti perdiamo anche la coliera. Oh, perché andrà, con quello che si paga per entrare, figuriamoci per starci a dormire! Mi stia fanno fine? No! Ok, perfetto. Dove vediamo se... Ok, Miss Pertridge, ma noi vogliamo sapere soltanto come si esce da qui. Con tutto quello che abbiamo speso per entrare. Ora, io ho dato la mia parola e non mi posso muovere di qui. Sì, ma noi non vogliamo che lei abbandoni il posto di lavoro, ci mancherebbe. Vogliamo sapere soltanto qual è l'uscita. Ecco, signore, tenete. Prego. E il suo secchio, cioè il mio secchio. Sì, lei dice così. Ma lei lo dopo di te, signore? È davvero gentile da parte sua. Ho saputo di lei, signore. Davvero? Che cosa ha saputo? I suoi sentiti. Ha sentito? Sì, ho sentito. E... No, no, non devi sentire quello, eh. Mi hanno detto. Eh, sì, lo so. Sì, mi hanno detto. E... Ne sono felice. No, ma... No, ma... No, no, no. Di cosa stanno parlando? I suoi sentimenti. Non deve essere imbalanzato. Ma non deve essere imbalanzato. Sì, no. Scusate. Scusate. Ti avevano occupato. Scusate. E' stato, è stato... Sono stato io. Lei, signor Lillissima. Un errore. E' stato solo un errore. Sì, il suo ultimo errore. E' stato un errore, davvero. Tu lasciami smare. No, no, ma lei, lui, pensava che lei fosse la cameriera. Io una cameriera. No, no, non volevo dire che lei è una cameriera. Io infisso come due torti. Io infisso come due torti. Mamma, ma... No, no. No, no, non volevo dire che lei è una cameriera. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no.